5 anni più o meno 2013 gestione dei risorsi umani e organizzazione Advanced Project Manager è stato un percorso di me molto formativo da un punto di vista professionale ma anche personale anche del modo di fare alcune cose tanti strumenti magari sono stati introdotti proprio a parte di questo master con le mie comarze da solo sempre sta molto più difficile poter accedere a questo tipo di ricorso ho avuto il piacere di scoprire l'azienda come sostenitrice del mio percorso professionale Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti